Dopo aver conquistato la White Belt a Dream Kingdom ai danni di Mirai, Sauriano è pronta a difendere tale titolo contro una nuova avversaria, Star Like It. Il membro di Oedo Tai ha ottenuto il prestigio di lottare per il Wonder of Stardom Championship a Supreme Fight dopo aver vinto una Battle Royale con al suo interno i nomi più disparati e talentuosi della compagnia, lottrici come Hanan, Azuki, Saki Kashima e così via hanno gareggiato fino all'ultimo respiro col sogno di sfilare Sauriano e catturare la White Belt. Come detto in precedenza, questo onore è toccato a SLK che ha vissuto un finale al Cardiopalma dove ha dovuto scontrarsi contro una guerrittissima Hanan che ha dato del filo dal torcere a Star Like It ed è arrivata vicinissima alla vittoria in più di un'occasione. Alla fine però il membro di Stars ha dovuto soccondere a ben più esperta nemica. Questa vittoria dunque permetterà a Star Like It di lottare contro Sauriano in un match che promette fuoco e fiamme. Per accaparrarsi il Wonder of Stadon Championship, Sauriano ha dovuto vivere un'odissea sì perché ha dovuto sconfiggere un'avversaria davvero ostica. Mirai ha saputo difendere con successo il titolo nella loro prima battaglia che è andata in onda a God Rush 2023 dove il match finì con un pareggio per Time Limit e questo premise al membro di God's Eye di rimanere campionessa. Ma Sauriano non si arrese perché sapeva che battere Mirai era possibile e con un fuoco che le ardeva nell'anima ha sfilato di nuovo Mirai ad un rematch per Dream Quindon dove, come ormai tutti sappiamo, il membro di Cosmic Angels ha battuto quella Mirai che sembrava imbattibile compiendo l'impresa di conquistare la White Belt per la prima volta in carriera. La battaglia che Sauriano dovrà intraprendere contro SLK in quel di Supreme Fight è una prima volta in assoluto, sì perché sarà la prima volta nelle loro carriere che le due atlete incroceranno le braccia nel ring in un single match. Il membro di Oedo Tai è intenzionato a portarsi a casa la vittoria e di conseguenza a conquistare per la prima volta in carriera il Wonder of Stardom Championship privilegio che è toccato soltanto a poche lottatrici perché vincere la White Belt vuol dire scrivere il proprio nome tra le più grandi di questa disciplina e questo è esattamente l'obiettivo di Starlight Kid quello di essere ricordata come una delle più grandi wrestler nella storia della Stardom. Starlight Kid debutta nella federazione di Rossi Ogawa l'11 ottobre del 2015 e dopo aver fatto la proverbiale gavetta vinse il Future of Stardom Championship nel marzo del 2018. Qualche settimana più tardi si unì a Stars grazie allo Stardom Draft che andava in onda in quegli anni rimase campionessa fino al 3 gennaio del 2019 dove perse il titolo contro Utami Aya Shishika fermando il suo regno a 281 giorni. Passarono alcuni anni e il 12 giugno del 2021 SLK lasciò Stars per approdare in Oedo Tai dopo che la stable di Mayu Watani perse un 10 Women's Tag Team Match contro l'unità capitanata da Natsuko Tora. In questa nuova avventura Starlight Kid si tolse parecchie soddisfazioni da prima vincendo i Goddess of Stardom Championship insieme a Momo Watanabe e più tardi gli Artist of Stardom Championship insieme con Momo Watanabe e Saki Kashima. La crescita per SLK all'interno di Oedo Tai fu lampante perché permise alla giovane notatrice di conquistare diversi allori ma gli mancava ancora qualcosa, un titolo singolo, uno di quelli più importanti ed ecco allora che con la fame di diventare campionessa e con tutta l'esperienza maturata negli scorsi anni è pronta ora a sfidare Saoriano per conquistare quel titolo che le permetterebbe davvero di essere chiamata leggenda. Sconfiggere però Saoriano non è impresa facile perché il membro di Cosmic Angels si è dimostrata una lottatrice con i fiocchi da quando è ritornato in Stardom lo scorso anno. Nel 2023 Saori ha potuto vantare la conquista degli Artist of Stardom Titles insieme a Natsupoi e Kairi, i Goddess of Stardom Championship insieme a Natsupoi e la White Belt che attualmente detiene con grande orgoglio e che non ha intenzione di perdere prematuramente. Ecco perché il mio pronostico riguardante questo match va in favore di Saori Anu. La lottatrice appartenente alla stable capitanata da Tam Nakano è un'avversaria ostica da battere per chiunque e sono sicuro che avrà un regno di tutto rispetto che la porterà a battere lottatrici di grande esperienza per consolidare il proprio nome all'interno del wrestling femminile mondiale. Siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti ma prima di fare ciò vi invito come sempre a lasciare il vostro pronostico sulla sfida che ci attende tra Saori Anu ed SK qua sotto nei commenti. Vi ricordo ancora una volta che questo incontro andrà in onda domenica 4 febbraio a Supreme Fight. Se il video vi è piaciuto non scordate di lasciare un like di condividere il video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Non è un segreto che il nuovo obiettivo del canale sia quello di arrivare a quota 1000 iscritti ed ecco perché chiedo il vostro aiuto per raggiungere tale traguardo. Fino a poche settimane fa mi sembrava un proposito impossibile ma ora sono convinto che con il vostro supporto è una meta raggiungibile. Dal vostro amichevole Chirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima Sayonara